ma... casin 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 allora praticamente siamo andati nel tunnel mi ha ucciso il monstro io ho salvato le persone poi siamo andati amanti nel tunnel io ho salvato le persone esatto questo non mi ricordavo nessuno ma perchè ha studiato no effettivamente beh ho fatto tutto però neanche un paletto in più quindi che avremmo maniera e infatti dopodiché ci è arrivato un punticello noi sapevamo che dovevamo andare dritti ma invece domanda perchè andare dritti quando si può tranquillamente provare a sormontare le punticelle la cosa che ho fatto cambiantimatia avverso porte un cittosoro collato con il... con il cittadino non mi ha visto ma la volevo spendere? stai spiegando? bisogna che ti riprenda voglio rivederlo cosa ho dovuto rivederlo? cosa ti ho fatto prima? eh ti spiego ahahahahahahah ha fatto prima? eh non spieghi a chi ora eh non spieghi a chi ora ha fatto la giro dei ladri che si sono formolto con un altro fuoco come ho detto che sia possibile quella dell'altra parte del ponte sono andati oltre c'era l'asco e non l'ultato e non è se vanno più oltre ancora parcazzo devo dire che il frenzi riprende ma io voglio riprendere un dettaglio del frenzi un po' l'orecchio il pelo sull'orecchio non se lo vede mia eh, non se lo vede mia contro il flesso ehm abbiamo trovato il problema il mio è durante il Segafugli il tasto ovviamente ha fatto il danno si è stato sulle titole ahahah ah ma mi hai firmato mentre cercavo di prendere la bottiglia no, volevo firmarti mentre cercavi di prendere la bottiglia con il culo con il culo la bottiglia ahahah non potrei mai pareggiarti in questo sport sai che io non mi inizio mai a fare qualcosa che mi possono andare a fermare parlo che te dai in fili tu eh ma tu sei capace, mi sento un minore ritare a rispondere a quella quantità ahahah no allora eh sento che c'è delle foto tue su Facebook Andrea Brazzarola che è incredibile ahahah e te le mette su ogni tanto e te le mette su mh grazie 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 grazie